Mi chiamo Furio Robotti, sono nato l'8 gennaio 1943, quindi avevo 32-33 anni e lavoravo in comune a Borghetto Santo Spirito e abitavo, dove sono sempre abitato, tutta la mia vita è in via Domenzoni 1, diciamo via Domenzoni che fino a un certo punto si era chiamata via il mondo di amici. Io lavoravo a Borghetto e arrivavo a casa verso le 14-30 più o meno, 14-30-15 a seconda di quando arrivavo al treno, perché tra le amenità del periodo c'era anche la bomba in galleria, quindi ferma al treno, scende tutti eccetera eccetera, quindi si arrivava a casa quando si poteva. Detto questo, il momento clou di quando ci si è decisi, per quanto ricordo io, a organizzare le cosiddette ronde è stato dopo l'episodio della bomba via Giacchiero dove è morta la mamma di non mi ricordo quale dottore e io ero proprio lì perché ero in ospedale nel reparto dove era ricoverata mia mamma che era malata di tumore eccetera. Quando è scoppiata la bomba siamo tutti scesi in strada, infermieri barriglieri per primi e siamo volati fino lì a via Giacchiero, però poi vabbè sono arrivati i vigili del fuoco, polizia e quant'altro e poi io sono tornato ad assistere mia madre. È stato un colpo violentissimo, fumo e calcinacci, ma non, diciamo, la bomba era nelle scale se ricordo bene. Quindi all'esterno sì c'è stato un fumo, ma non una cosa, come posso dire, che avesse un impatto da vedersi da lontano ecco. E niente, quindi di questo si è trattato. A quel punto lì e dopo e dopo tutta quella serie di episodi che c'erano stati, i comitanti di quartiere avevano cominciato a dire che per poter vivere, come posso dire, senza l'angoscia di andare a prendere il tuo figlio Casino e andare all'asilo che rimaneva ucciso dalla bomba dovevamo darci un sistema di difesa cittadino e civile anche perché le forze dell'ordine apparivano, come posso dire, molto al di sotto delle necessità e dei risultati effettivi e quindi, come posso dire, la voce che correva tra di noi era tiriamoci sulle maniche e vediamo che cosa possiamo fare. Quando i comitanti di quartiere hanno chiesto la disponibilità dei cittadini a partecipare alle ronde, io ho immediatamente detto di sì, non ricordo come ero stato contattato, ma a quel punto lì ci si, come posso dire, i cittadini del quartiere si conoscevano per lo meno di vista quasi tutti, non c'era la situazione che oggi sarebbe parecchio più difficile. E allora un po' col passaparola e un po' con questo coordinamento che poteva essere presso la sede del PC, lì via Lietto o non ricordo dove fosse la sede del comitato di quartiere o della circoscrizione, forse il circoscrizione non c'era ancora, il comitato di quartiere. Ci si è visti un bel momento, ma tutto questo è successo in un breve periodo di tempo e si sono organizzati dei percorsi e delle zone di controllo che avevano come confine il quartiere, perché ciascuno di noi doveva essere del quartiere persona conosciuta e riconoscibile facilmente anche di sera, di fatti se non ricordo male ci eravamo dotati anche di bracciali di riconoscimento e poi c'era stata la suddivisione degli orari di controllo a me, per cui può interessare servire, era stata segnata da mezzanotte alle 4, perché poi io alle 6 dovevo prendere il treno e andare a Borghetto, il mio turno di guardia era dalle 4 alle 6. Ripeto, si andava da Ponte di Via Trincee, Via Lietto, Via Folconi, Vicolo Frugoni dove c'era l'asilo, la scuola urologo del quartiere di Santa Rita e ci si scambiava, hai visto qualcuno, non hai visto nessuno, è passata una macchina, hai preso la targa, diciamo che l'attività era questa, devo dire che da mezzanotte alle 4 il rumore di una macchina si sentiva a distanza e avevamo tutti le atene abbastanza, come posso dire, attente. La cosa che ci era stata suggerita ma anche imposta era che dovevamo essere assolutamente disarmati e l'unica cosa che avevamo era matita e blocchetto per segnare il numero di targa delle macchine che circolavano con l'impegno di immediatamente segnalarli alla polizia, se c'era qualche macchina della polizia che girava, se no al comitato di quartiere che telefonicamente avrebbe vertito le forze dell'ordine. qualche rara volta, se vuoi cancellarlo puoi fare, ci siamo portati qualche legnetto sotto la giacca a vento, però per il resto eravamo assolutamente disarmati, l'arma più terribile era la pena. Sul discorso del terrore e della paura, certo che avevamo paura perché uno che viene per mettere una bomba non viene certo né disarmato né sproveduto, quindi era evidente che qualunque cosa potessimo mettere in campo noi era sempre al di sotto di quello che avrebbe potuto essere il nostro avversario, il nostro nemico. L'obiettivo e la difesa consisteva nella segnalazione immediata come ho detto al comitato di quartiere e o alle forze dell'ordine, con qualche timore rispetto a questa seconda ipotesi, perché non si sapeva bene mai se l'auto era un'auto civetta o sulle auto, diciamo, con le insegne, la polizia e i carabinieri non c'era problema, ma sapevamo che c'erano anche auto civette che giravano e su quelle avevamo abbastanza paura perché poteva essere un'auto civetta ma poteva anche non esserla. In quel momento lì secondo me c'era una coesione, c'erano ancora abbastanza vivi i ricordi della Resistenza e personaggi che hanno partecipato alla Resistenza ancora vivi. Direi che in quasi tutti noi era evidente che la matrice era una matrice nera, eterodiretta o non eterodiretta, ma le bombe arrivavano di lì e non ci dovevamo preoccupare né di Pinnelli né di Valpreda, ecco, quindi su questo avevamo tutte le idee, almeno quelli che erano in contatto con me avevano tutte le idee abbastanza chiare. Direi che il contesto odierno è anni luce, lontano da quella realtà, intanto perché io vedo che il messaggio che per vent'anni è passato, i morti sono tutti uguali, i caduti della Repubblica di Salò sono come i caduti dei partigiani, tutti i morti vanno rispettati, sì, per l'amore di Dio, tutti i morti vanno rispettati, però chi combatte per una causa di un certo tipo e chi combatte per una certa altra dobbiamo distinguere, perché sennò perdiamo di vista il bene dell'intelletto e le ragioni della vita. vedo che questo, vent'anni di questa, come posso dire, miscela devastante psicologica e politica ha prodotto danni ed emergenze fasciste pesantemente rilevanti ed emergenti sempre di più. e quindi direi che una situazione come quella là mette male a ripeterla. La cosa più complessa per motivi familiari e lavorativi di ciascuno di noi era trovare una possibilità di copertura totale dalla sera al mattino, dividendoci orari rispetto alle mie, scusate, alle rispettive impegni di lavoro e rispettivi orari. Quindi la cosa più difficile era incastrare le persone, possibilmente, come dicevamo prima quasi sempre le stesse coppie perché ci si conosceva, con orari e con possibilità assoluta di continuità. Quell'esperienza lì per un periodo di tempo relativamente lungo è servita ad amalgamare, come posso dire, le forze democratiche della città. Col finire della strategia della tensione e cominciamo a parlare del periodo di craxi e ha cominciato a evolvere in assai peggio, è stato un crescendo di peggio nella valutazione che ne do io, ecco. Si è persa un po' per, come posso dire, un po' per fattori anagrafici perché dicevo prima 74 e eravamo a 19 anni dalla fine della guerra, partigiani vivi, ce n'era ancora assai, ecco, non ci dobbiamo nascondere che il partito comunista è stato abbastanza, per un periodo abbastanza lungo, abbastanza egemone e abbastanza, come posso dire, per come li ho conosciuti, abbastanza reattivo su questo genere di problematiche e di necessità di intervento, ecco. Dopodiché in tutte le parrocchie di tutto l'arco costituzionale il discorso ha cominciato a sfaldarsi, a perdere tensione dei valori ideali e della resistenza e a mio parere anche della vita.